e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video siamo qui oggi al porto di genova alla spalla c'è la nostra nave su cui ci imbarcheremo presto la moby la moby wonder la sofia è dentro lì e nulla adesso ci imbarchiamo e poi vi faccio vedere dov'è la nostra location quale sarà la nostra location per la notte a noi ci mettono al piano di sopra stiamo aspettando di salire la rampa stiamo lasciando il porto di genova direzione più durale lì c'è anche la luna bella bella spettacolo comunque vi faccio vedere dove ci siamo posizionati perché ovviamente traghetto di notte però non prendiamo la cabina perché si risparmia e quindi questo qua sarà il nostro divanetto per la notte abbiamo anche preso cucini non fiabili 5 euro meglio spesi abbiamo portato anche i matassini da mettere per terra ma ci sono i divanetti quindi dormiamo sono le 6 45 del mattino siamo qua sul ponte del traghetto perché siamo addirittura di arrivo a Alla prossima. Alla prossima. La macchina abbandonata qua, parcheggio che costa 6 euro tutto il giorno, passerella estrema su uno dei canali della laguna qui presente. Perché c'è tutta la laguna, le lagune sono là e là c'è tutta una zona militare, infatti è tutta recintata e adesso vediamo fino a dove possiamo spingerci. Comunque, a parte il vento, gran figata. Arrivati letteralmente in spiaggio e la sensazione della sabbia tra le dita è impagabile. E' un po' mosso il mare, però magari poi passa. Adesso andiamo proprio in fondo, in fondo, là in fondo. Sofì, ti piace qua dove siamo? Molto, eh? Andate in spettacolo. Dune di sabbia morbidissime e mare di acqua saltissima. Sofì, ti piace qua. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.